Questo è il pilone della linea elettrica che una volta portava l'energia in Italia, l'energia elettrica però è difficile da trasportare in Italia attraverso questo gigantesco pilone più grande traliccio dell'energia elettrica quando l'hanno costruito del mondo. Qua siamo nel punto più stretto tra la Sicilia e la Calabria, sul canale tra Reggio e Capo Peloro, un canale di 25 chilometri. Si chiama Capo Peloro, la punta estrema più a nord, a nord est della Sicilia. In questo punto passano moltissime navi, ogni 5 minuti passa una nave. Le navi di raghetto sono un po' più a sud, fra Messina e Villa San Giovanni, incrociano le altre navi che vanno da nord a sud. Questi davanti a noi sono i monti peloritani e questa è la torre del faro di Capo Peloro. Questa è la torre che costruivano gli inglesi per impedire lo sbarco della flotta francese in Sicilia durante l'Europea Garibaldina.